Siamo entrati in questo istante nella Basilica San Nicola di Bari con un gruppo di braccianti di Foggia e Borgo Mezzanone, lavoratori costretti a lavorare in condizioni disumane, sfruttati. Papa Francesco dice che il lavoro conferisce dignità all'uomo, però quello dei braccianti è un lavoro fatto di disumanità, privo di diritti e di dignità. Ora chiediamo un confronto con l'acivescovo Francesco Cacucci perché la politica è la regione Puglia e il governo continuano a latitare.